Conclusa nella giornata di l'altro ieri, nel territorio di giurisdizione della Capitania di Porto Guardia e Costia di Porto Empedocle, l'operazione nazionale complessa di controllo sulla filiera di pesca Tallone d'Achille, coordinata dalla Direzione Marittima di Palermo, è svolta in tre fasi a partire dal 30 novembre. I controlli svolti sia nei punti di sbarco lungo la costa che nell'entroterra a Grigiantino, hanno riguardato l'intera filiera, mercati, centri di distribuzione, pescherie, mezzi aziendali, ristoranti, gastronomie, mezzi di trasporto dei prodotti ittici e sono stati rivolti alla tutela del consumatore, frodi in commercio, pubblicità ingannevole, tracciabilità, etichettature, rintracciabilità, divieto di vendita del prodotto proveniente da pesca illecita, alla salvaguardia della salute, commercializzazione di prodotti conservati in violazione di norme igienico-sanitarie, vendita da parte di ambulanti non autorizzati e alla conservazione degli stocchi ittici, commercializzazione di specie sotto taglia minima. Gli accertamenti di mare sono stati finalizzati al controllo della licenza e gli attrezzi, della tabella minima di armamento, della regolare assunzione dell'equipaggio alla corretta tenuta dei documenti di bordo e al possesso delle previste dotazioni di sicurezza. Le cose dell'attività è stato rilevato il generale allineamento alle norme in materia da parte delle imprese di pesca e della maggior parte degli esercizi commerciali controllati, grazie anche all'opera di formazione e sensibilizzazione della Guardia Costiere, che si affianca ai periodici accertamenti svolti dai militari del corpo con la consueto collaborazione del personale veterinario dell'azienda sanitaria provinciale 1 di Agrigento. L'operazione condotta nel circondario marittimo di Porto Empedocle ha registrato l'impiego di 28 militari di unità navali, due mezzi terrestri nel corso della quale attività sono stati effettuati 31 controlli, elevate 10 sanzioni amministrative per un totale di circa 13 mila euro, accertato un illecito penale con contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria, sequestrati 30 kg di prodotti ittici distrutti a norma di legge dopo le verifiche del personale veterinario dell'Asp che ne ha dichiarato la non idoneità al consumo umano, elevate inoltre 7 sanzioni amministrative per violazione delle norme in tema di tracciabilità ed etichettatura del prodotto di importo che varia da 1.166 a 1.500 euro, elevate al direttore e all'amministratore unico di un ipermercato di agrigento, nonché al responsabile della ditta fornitrice di prodotti ittici con sede a Rimini, al legale rappresentante di una cooperativa di Favara specializzata in servizi di ristorazione a denti pubblici e privati, al proprietario di una ditta di prodotti ittici congelati di raffanali, al responsabile punto vendita di un supermercato di agrigento, al titolare di una pescheria di agrigento e al proprietario di un ristorante sempre nella città dei Templi. Altre tre sanzioni da 1.500 euro sono state elevate a carico di l'altrettanti venditori abusivi, due di porto in pedo che uno di agrigento. Infine il direttore e l'amministratore unico di un ipermercato di agrigento sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per il reato di frode in commercio.